Penso che le norme sul mercato dei lavori attuali siano pessime, però come vede con queste norme quel ragazzo l'ha lasciato a casa senza colpo ferire, senza colpo ferire, no? E lui non era un lavoratore con un contratto, era un lavoratore che lavorava con le norme che sono state introdotte di recente e che poi devono usate strumentalmente. Dunque il danno è già garantito, ora bisogna pensare a come difendere una persona che viene allontanata così, gli strumenti di protezione delle persone che perderanno il posto di lavoro non sono adeguati, quelli che oggi esistono, quella diventa una priorità se non vogliamo dei drammi sociali, sono persone che poi hanno bisogno di vivere come tutti.